Musica Buongiorno e bentrovati per questa prima edizione con l'informazione regionale di Telemolise, oggi mercoledì 16 settembre. Si riaccendono i riflettori sull'autostrada del Molise, il Consiglio regionale ha approvato la mozione presentata dall'ex governatore Michele Iorio che sospende lo scioglimento della società. Il centrosinistra ha fatto un passo indietro ed ha votato la mozione che di fatto riapre il dibattito sulla realizzazione della Termoli San Vittore. Ma sentiamo il servizio di Giovanni Minicozzi. Dopo la mozione presentata da Michele Iorio e approvata a maggioranza dal Consiglio regionale che di fatto blocca la messa in liquidazione della società autostrada del Molise, si riapre la possibilità di realizzare il collegamento Tirreno-Adriatico. Il centrosinistra ha fatto un passo indietro rispetto ai propositi manifestati nei mesi scorsi, mentre il Movimento 5 Stelle ha ribadito la sua contrarietà. Io credo che sia un passaggio importante e fondamentale per questa storia legata alla realizzazione di un'infrastruttura che per il Molise è assolutamente necessaria, alla quale non possiamo rinunciare. Personalmente farò le battaglie necessarie a tutti i livelli, ma intanto è importante che il Consiglio all'unanimità abbia votato la mozione che di fatto chiede di verificare fino in fondo la possibilità di realizzare la liquidazione della società, così come aveva chiesto l'ANAS. Ci troviamo di fronte a un problema molto grave perché la liquidazione della società verrebbe realizzata sulla base di un falso presupposto, e cioè non esistono i fondi pubblici. I fondi pubblici esistono ancora e aspettiamo che il governo si decida su questo argomento anche perché la legge di stabilità prevede la realizzabilità di questa infrastruttura. Quindi l'argomento è ancora vivo, è ancora sul tappeto. Mi auguro che la giunta regionale questa volta non si faccia sfuggire questa opportunità. In ogni caso noi continueremo la battaglia. Il Movimento 5 Stelle ha votato contro la sua mozione e di fatto si ripropone un tema, quello dei costi del Consiglio di amministrazione della S.P.A. Ma i 5 Stelle sbagliano a mio giudizio a fare questa battaglia di retroguardia. Come può essere importante per l'interesse futuro delle future generazioni il costo di un Consiglio di amministrazione rispetto alla realizzazione di un'infrastruttura fondamentale? Io credo che siano pochi cittadini disposti a credere che collegarci con l'autostrada del Sole e l'Adriatica sia poco importante. Credo che da Termoli a Venafro tutti comprendano che per il Molise sarebbe una svolta, una reale svolta che apre tante grandi opportunità. Il passo indietro ora lo dovrà fare l'ANAS? Beh certo, l'ANAS lo dovrà fare. A mio giudizio esistono proprio i termini giuridici che peraltro il Presidente si è riservato di verificare in questi giorni per chiedere la liquidazione di una società realizzata con legge, con legge dello Stato. E il Governo deve darsi una mossa per realizzare un obiettivo che è condiviso dal primo Governo Berlusconi, dal Governo Prodi, dal Governo Berlusconi II con il finanziamento, all'epoca c'era il Ministro Fitto che operò il primo finanziamento reale, poi c'è stato il Governo Renzi che nella finanziaria ha ribadito la necessità di realizzare quest'opera. Io non so cosa dirà il Governo adesso perché eventualmente ci vorrà ripensare. Io lo escludo. In ogni caso saremo molto attenti. No a Legam. Dal Forum dell'Acqua Pubblica di Isernia, Celeste Caranci ha chiesto al Comune di Isernia di non aderire all'ente regionale che avrà il controllo delle sorgenti e delle reti idriche e fognanti dei comuni molisani. Una forte presa di posizione che dovrà essere tenuta in debita considerazione dal Commissario Prefettizio che verrà nominato dal Governo Centrale. Sentiamo il servizio. Un no netto e dura ad ogni ipotesi di adesione a Legam da parte del Comune di Isernia. La forte presa di posizione viene da Celeste Caranci, del Forum dell'Acqua Pubblica, che chiede al Comune di non aderire assolutamente al nuovo ente regionale. L'acqua è una risorsa pubblica e collettiva ed è un diritto non alienabile. Noi siamo qui per difendere innanzitutto quello che è stato il risultato del referendum di quattro anni fa, del 2011, che ha stabilito che i cittadini italiani, e in questo caso i cittadini molisani e isernini, si sono pronunciati per l'acqua pubblica come bene comune. E vorremmo che fosse rispettata questa decisione. Ci sembra che le decisioni prese invece dal Governo regionale di frattura del centro-sinistra, con la legge regionale di qualche mese fa, che impone la costituzione di un nuovo ente a carattere regionale, l'Egam, vada in tutt'altro senso, vada cioè nel senso dell'apertura ai privati, dia la possibilità ai privati di entrare nella gestione pratica di questo bene comune. Una grana in più per il commissario prefettizio che arriverà a Isernia e che avrà già il suo da fare per dare il via libera al bilancio. Noi chiediamo che il comune di Isernia, insieme ad altri 15 comuni delle province di Isernia e Campobasso, facciano ricorso al TAR, appunto contro la decisione di aderire a questo nuovo ente regionale e che invece si vada nel senso di rafforzare e di cambiare lo statuto di Moliseacque. Voglio ricordare ai cittadini molisani che noi abbiamo già un ente regionale che gestisce il patrimonio idrico della nostra regione. Andrebbe semplicemente cambiato nel suo statuto per dargli una direzione non privatistica pubblica difendendo quelle che sono le prerogative di un bene comune essenziale che è quello dell'acqua. Imparare a suonare la zampogna, ciaramella o altri strumenti a fiato etnici. Ora si può grazie all'associazione musicale Il Pentagramma di Boiano che organizza corsi dedicati a questi strumenti e all'organetto. Un tuffo nelle tradizioni con la scuola gestita dalla band molisana Riserva Moac. Oggi Open Day a Boiano, nella circostanza sarà commemorato il maestro Franco Di Rienzo, fondatore dell'associazione Il Pentagramma, al quale sarà intitolata la scuola di musica. Saranno presenti anche i volontari della Frates Boiano. Altro progetto infatti è la creazione di un gruppo di donatori di sangue legati alla struttura musicale. Ed era questa l'ultima notizia, passiamo adesso alla rassegna stampa. Per la rassegna stampa di Telemolise, come ogni mattina, si parte con il giornale del Molise.it Nella home, caso Planet Call, dalla regione 30.000 euro all'amministratore della società di sondaggi elettorali. Tragedia, Castelpetroso, ispettore di polizia, si toglie la vita con un colpo di pistola. Vivi la tua città, oriente della Confesercenti dice, obiettivo raggiunto. Carovigli, le linee guida del ministro Giannini per una buona scuola. Nelle aree interne, sempre nella home del giornaledelmolise.it, toto sindaco a Isernia, fioccano già le prime indiscrezioni sui candidati. L'appello del consigliere provinciale Michele Durante ai sindacati, Job Blacks e Buona Scuola. Colpo di scena allo zuccherificio, richiamati gli operai al lavoro, si parte con la manutenzione. Caduta di Brasiello, Danilo Leva accusa la Fanelli di aver organizzato il complotto. E poi, occhio ai bambini, parte da Termoli e il controllo della vista nelle scuole. Isernia, reati contro la persona e il patrimonio, quarantenne arrestato dai carabinieri. E sul giornale delmolise.it, editoriali, idee ed opinioni, riaprono i manicomipi di Molise, un partito sul nido del cuculo di Pasquale Di Bello. E poi ancora Pasquale Di Bello, regione Molise, gli operai di gamma e zuccherificio preparano la rivoluzione. Frattura, balbetta, petraroia, scappa. Sul giornale delmolise.it, altre notizie che riguardano la nostra regione, l'Italia e il mondo. La rassegna stampa continua con primo piano Molise, che apre con la sanità. Frattura, deroga sul personale o sarà default? Si riapre pure il confronto in consiglio, con sedute monotematiche sulla riorganizzazione. Domani l'argomento al centro di un vertice al Ministero. Intanto il Presidente striglia anche la governance dell'ASREM. Servono più manager che burocrati. Di taglio alto la decisione del Gup di Larino. Sesso con una minore alla sbarra, l'ex parroco di Porto Cannone. Isernia, agente della mobile, si spara con la pistola d'ordinanza. Lo trovano i colleghi. Da Milano Facciolla incontra Renzi all'Expo. Il Premier dice dai un forte abbraccio a Paolo. Scendiamo di taglio basso. Isernia commissariata. I sette dissidenti prendono le distanze da tutti. Nessuna regia occulta. A Brasiello andava staccata la spina. E poi riparte lo zuccherificio del Molise. Richiamate in servizio 61 unità su 79. Da oggi la manutenzione dello stabilimento. Poi ci sarà l'avvio della campagna. Alla fisiomedica niente stipendio da 13 mesi. La denuncia arriva dai dipendenti iscritti al sindacato. Trattati come lavoratori di Serie B. Una notizia dall'Abruzzo. Vasto, comune, senza voucher. Del prete dice a rischio l'assistenza domiciliare per gli anziani. Per lo sport, mercoledì ricco di incontri. Il big match, lupi-samb, storia e blasone. Selva Piana, out, grazioso. La Serie D, Lisernia gioca a Giulianova. Agnone cerca punti ad Avezzano. Coppa Italia, partono gli ottavi. Benafro nella Tana della Macchia. Termoli invece riposa. Passiamo adesso al quotidiano del Molise che apre con la cronaca. Poliziotto si toglie la vita al santuario. Aperta un'inchiesta sulla morte del 53enne Emidio Cocco. Shock in città e negli ambienti della questura. Il corpo dell'ispettore è stato trovato a due passi dalla Basilica di Castel Petroso. Fornelli, vasto incendio, divora 100 ettari di bosco. Il commiato in aula, il ricordo di Fernando Frattura, ha difeso il Molise. Poi ancora per il quotidiano del Molise, al centro della pagina, Consiglio regionale, Sanità. Il governatore dice necessario rinnovare i contratti ai precari. Termoli, zuccherificio, oggi si torna in azienda. Campobasso, esecutivo, tira aria di verifica. Lo sport, Campobasso-San Benedettese, un classico che vale punti pesanti. Isernia e Agnone impegnati in terra abruzzese. Poi ancora per lo sport, Coppa Italia, andata degli ottavi di finale, il Riccia a Santa Croce, trasferta a Gambatesa per il Campobasso 19-19. Uno sguardo anche alla Gazzetta del Molise, ma l'assessore Petraroia non si dimette. Il programma europeo che favorisce l'inserimento lavorativo dei giovani disoccupati. Garanzia giovani, fallisce il piano. La Gazzetta del Molise, l'Oscar del giorno al Signor Nessuno, il Tapiro del giorno a Teresio Di Pietro e Mimmo Itzi. Diamo uno sguardo anche alla home page di Futuro Molise. Castelpetroso, un grande dolore, ritrovato senza vita l'ispettore capo di Polizia Emidio Cocco in servizio presso la questura di Isernia. Fornelli, vasto incendio all'ambito, la zona montuosa tra Fornelli, Acquaviva di Isernia e Forlì del Sagno. Dopo il devastante incendio di fine agosto, di nuovo diversi ettari di bosco in fumo e caccia al piromane. E poi in New York, Isernino aggredito da due pitbull salvo solo grazie all'intervento dei passanti. Il video finisce su YouTube. Naturalmente su Futuro Molise troverete altre notizie che riguardano la nostra regione, l'Italia e il mondo. Per la rassegna stampa dei quotidiani nazionali partiamo come sempre dal Corriere della Sera. In apertura, prova di forza sul Senato, si parla della riforma. Finocchiaro dice no agli emendamenti sull'articolo 2, Quagliariello, Italicum da modificare. Il governo legge subito in aula strappo della minoranza, PD e duello con grasso. Di taglio alto, anticorruzione, Roma, Porto Franco degli Appalti, il dossier su Alemanno e Marino. Le contestazioni di Cantone sulle trattative private dal 2011 al 2014. La Repubblica apre con la manovra ed un piano anti-austerity sulle riforme strappo nel PD Renzi all'Unione Europea. La dice sfondando il deficit di 7 miliardi in più, scontro Premier Grasso, testo subito in aula. A centropagina la fotonotizia, il reportage, centinaia di arresti in Ungheria, Budapest, il filo spinato che ferisce l'Europa. La stampa apre con la notizia che riguarda gli immigrati. L'Ungheria arresta i migranti e viene a chiude le frontiere. Oltre 170 fermati, siriani in sciopero della fame, aprite le porte. Stretta del governo Maggiaro, muro anche con la Romania, Merkel all'Italia, dice fate i centri di accoglienza. E vediamo la foto che riguarda questa notizia di taglio basso. Si parla delle riforme, Renzi accelera, attenzione, governo grasso, la minoranza PD strappa inutile. Il tavolo con la Boschi, testo subito in aula. La scuola, i professori 500 euro per la formazione. Il ministro Giannini per quest'anno in busta paga netti forse già da ottobre. Il mattino di Napoli, Senato PD alla resa dei conti di taglio centrale. Oggi vertice per decidere la data del voto in aula. Grasso irritato, il premier chiude sull'elettività. La minoranza abbandona le trattative. Renzi dice approvare subito la nuova legge. Di taglio basso si parla di ferrovie, ponti e strade. Ecco i 15 patti tra governo e regioni per il mezzogiorno. Il fatto quotidiano. La Caritas, Renzi ignora i poveri. Intanto lui sfora di 500 milioni. I partiti, a parte il Movimento 5 Stelle, distratti. Ma la presidenza del Consiglio aumenta le spese. Di taglio alto, leggi con il buco. Di Matteo dice sull'ergastolo coronano i sogni della mafia. Il PM di Palermo ha rischio le norme su Cosa Nostra. Passiamo adesso al quotidiano L'Avvenire, che apre con i dati che riguardano appunto la Caritas. Dal 2007 i bisognosi sono raddoppiati, mentre sono calati i fondi per l'assistenza. Poletti dice stiamo lavorando al piano nazionale. Oltre 4 milioni di cittadini in miseria assoluta. La Caritas dice ora il reddito di inserimento sociale. Per il quotidiano Il Tempo di Roma, l'inchiesta stanze, alberghi e conventi. Ecco il Grand Hotel Vaticano, l'elenco dei 270 immobili e case per ferie gestite da religiosi mai versate imuettasi. Un conto per decine di milioni. E poi passiamo al quotidiano libero. La buona sola, così titola, inizio lezioni nel caos. Dopo essersi fatto smontare la riforma dai sindacati, il Premier si è piegato alle proteste dei docenti deportati. Così decine di migliaia di cattedre sono adesso vuote e la situazione è peggio degli anni scorsi. Di taglio basso, gli immigrati danno il colpo di grazia all'Unione Europea. Progetto fallito, torniamo ai confini nazionali. La Merkel ci ordina di fare i campi profughi. L'Ungheria arresta gli extracomunitari. Infine uno sguardo alla Gazzetta dello Sport. Bentornata, Super Juve, grande impresa a Manchester City, affondato 2-1. L'area di Champions League fa rinascere i bianconeri. Allegri azzecca tutte le mosse. Intanto c'è la fotonotizia con l'orgoglio dei campioni. E poi si parla di taglio basso di Messi, il marziano a Roma, il barca all'Olimpico. Vi spieghiamo perché non è una sfida impossibile. Ed era questa l'ultima notizia per quanto riguarda la nostra rassegna stampa. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.